Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono sempre in compagnia del mio amico Emanuele Buonasera Bravo E ora oggi siamo su FIFA 14 e io giocherò con la tastiera cosa è impossibile da fare Come sempre che gioco con la tastiera No dai io sono nabbo faccio schifo in questo gioco Si fai insieme no dai No se non perdo il nuovo come una merda Dai noi due dai mettiti con me Una contro e un insieme Una contro e un insieme No no dai Ok però prima contro e un insieme contro Come vuoi Oh figo posso usare solo tastiera però come si gioca Allora dai ora che hai capito sto se si fa qua Ok allora Perchè poi mille Eh Non c'ho in mille Aspetta Oh vabbè Ecco No 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 non dove vai In Italia eh Ok Inse ne ha inse ne ha Ma che cazzo ne so io io ho del cazzo Chorentina Non volevo neanche giocare lui che vai Non volevo neanche giocare lui io volevo Mettiti venti io ho la via Bianco 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 No bianco anche loro no Rosso 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 Negri Aspetta In questo gioco Si vai No cazzo 4 minuti io ho di giocare Allora La vinciamo ma la vinciamo Vai Ah so io Ma se ti ho io Io Ci sono detto Perchè chi chiama Giochiamo La femmina Perché così scuro Bello Non c'è un po' di luci 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 D Mainly But as위 Nicoletta Questa Diudi La ruota Questa Giuseppe Non c'è ciò La investimento dictata Il vieni, vieni, vieni vieni, vieni, vieni com'è che si passa? no, no, no cambiasi, ti spezza le gambe ti spezza le gambe che risoluzione sto giocando? ti spezza le gambe ti spezza le gambe no, 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 sei tu qui passa, passa, passa spezza le gambe ma che si gioca? no ho fatto passaporto di polone non solo non so, sono morso sbagliato si può raccontare no, ha fatto dico, ha fatto il progetto poter per le stavolte la stessa se non si pareggia e si pareggia si fa a tirare un'attività dell'aspetto postazione controllo tastiere monton tastiere automatico non ci rischia niente non aspetta proviamo solo 4.5 quello soltanto solo posto ma chissà come si gioca no 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 io faccio credere spettacolo spasso non è vero non è vero come si gioca non so il città con l'italia con il suo sito ma anche come si gioca il solito non si scrive io faccio un po' la cosa non posso fare questo posto aspetta per un'altra parte stima ma è un capitolo così faccio il sito sono c'è un senso di finito se si resta un sito basta 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 il posto non basta non posso dai passi se tu non è il palazzo 15 c'è un pochettino non si può passare non si può passare non si può fare per i piedi posto non si può sentire i piedi male nel senso posto un posto posto che fa l'asso non si può roma bambino la roma del testo no 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 il pizarro parte del titolo pizzerro non mi piacciono scatenato pizzerro pizzerro prof. non dcd cd l'intensità di posto pittine qui grandissimi dcd l'unico di bambini cinesi un pochettino per provo tutti i tasti c'è un'esercizio inizia si che bello